E' un riforme, prossimamente ci sarà una miranda a sinistra e un passaggio ancora a diamante. Potete leggere sull'acqua le raffiche di vento, le zone più opache sull'acqua sono raffiche di vento. Chiaramente fino a circa 400 piedi, cioè 150 metri sul lago, queste raffiche si sentono. E vi lascio immaginare la difficoltà di restare in formazione quando si è investiti da queste raffiche. Perché sono raffiche molto strette, per cui raffiche che possono essere larghe anche solo a 30 metri. Per cui il rischio è che solo una parte della pattuglia sia investita da una raffica. In quel momento chiaramente il gregario deve dare o meno motore per restare in formazione. Perché la raffica chiaramente porta via un po' di velocità rispetto al vento reale. il vento apparente cala, aumenta considerevolmente. Ecco adesso una sempre formazione a diamante verso il pubblico, una sfuggata a sinistra, sempre con i fumi. Ecco il blu Circe, veramente formazione molto stretta, pochi metri li separano loro da lago. Dicevamo rispetto alla palla, lei le dite la trenata.